La seconda concorrente, lei è stata la principessa di una serata, hai vinto il secondo posto, Miss Butterfly, si ti chiami? Per del Rio. Da dove vieni? Ecuador. Sei favolosa, il tuo abito è confezionato da chi? Da me. Wow! Vedete? Le ragazze sono veramente favolose, molto creative. Fai vedere il tuo abito. Sei felice di aver vinto il secondo posto? Sì, sono veramente soddisfatto, mi sono divertita e va bene così. Ecco, alla fine è un gioco, no? Perciò bisogna divertirsi e giocare. È stato un piacere. Grazie. Grazie a tutti.